Una vera e propria invasione di cinghiali e cinghialetti nelle parti più verdi della città oltre che al Sacromonte. Ma come mai ci sono così tanti avvistamenti? Lo abbiamo chiesto al professor Adriano Martinoli, esperto naturalista e zoologo dell'Università dell'Insubria. In sintesi la risposta è questa e cioè che in questo periodo capita che i cuccioli nati in marzo si spostino con più facilità proprio perché è un po' più grandicelli e stanno per essere svezzati. Il fatto che si vedano così tanti cuccioli è collegato al fatto che i cinghiali femmina formano proprio dei veri e propri branchi femminili con i cuccioli al seguito. Le immagini che vedete sono invece state girate al Sacromonte da Leslie Mulas che è il sindaco di Besano e che in più visite al Sacromonte è riuscito a documentare la presenza dei cinghiali.